Secondo i dati IS salgono questa settimana i valori dell'incidenza di nuovi casi covid e dell'indice di trasmissibilità RT che torna sopra la soglia epidemica. Salgono i ricoveri nei reparti ordinari mentre restano stabili quelli in terapia intensiva. Sei regioni questa settimana classificate a rischio alto. Aumentano da 3 a 5 quelle che registrano un'occupazione dei reparti ospedalieri ordinari sopra la soglia di allerta fissata al 15%. Si tratta di Emilia Romagna, Liguria, Marche, Umbria e Valle d'Aosta. Rispetto all'incidenza di casi, la regione che registra il valore più alto è il Veneto. Grazie per la visione!